Benvenuti in Gossip in the News. Prima di tuffarvi nelle ultime novità, vi esortiamo a unirvi al nostro canale. La coppia che ha rapito i cuori nel grande fratello ha fatto il grande salto, e senza alcun annuncio. Sì, avete letto bene. Sono già sposati. Le foto del matrimonio, degne di una pellicola romantica, hanno fatto il giro del web, suscitando fervore tra i sostenitori. La storia inizia con momenti di incertezza per i due, che avevano perfino iniziato a seguire percorsi separati. Ma, inaspettatamente, la loro relazione ha preso una svolta magica. Dopo alcuni disaccordi iniziali, il loro riavvicinamento ha sorpreso tutti. Le occhiate e i sorrisi condivisi erano un chiaro segnale. Tra loro c'era qualcosa di unico. E questo qualcosa è sbocciato in un attimo memorabile, catturato dalle telecamere di un noto show televisivo. La star del piccolo schermo ha incantato tutti con un ingresso spettacolare al braccio del suo partner, lasciando il pubblico senza parole. La vera sorpresa, però, era ancora da venire. La coppia, famosa per il suo passato televisivo, ha deciso di scambiarsi le promesse nuziali in una location estera, sotto l'occhio vigile delle telecamere. Una scelta coraggiosa per due che sembravano sul punto di separarsi. Ma chi sono questi due amanti che hanno deciso di celebrare il loro legame in maniera così pubblica. Finalmente, la conclusione di questa favola, la rinomata partecipante al Grande Fratello Albanese Aidi Bacci ha detto sia il suo Romeo, partner nelle avventure televisive. La conferma è arrivata attraverso i social network del Grande Fratello VIP3, scatenando una valanga di interrogativi e speranze tra i fan. È un matrimonio sincero o solo un'astuzia per il reality, voi che ne pensate? Ciao a presto!